... Vengono le poste, le leggi qui è, in un piccolo incavo fatto sull'altare. E adesso vengono cingillate. E adesso vengono le poste. Adesso io cosparcerò con l'olio consacrato la mezza dell'altare. Dopo questo rito, l'altare potrà essere luogo, segno del sacrificio di Gesù. Quindi, sede nella quale si attua la Pasqua del Signore. Ti rodiamo e ti prediciamo, Padre Santo, perché Cristo, tuo figlio, nel disegno mirabile del tuo amore, ha dato complimento alle frutteplici figure antiche e l'unico mistero dell'altare. Noè, patriarca della scritta umana scampata da Gesù, per esser te l'altare di tuo fuori sacrificio. E tu lo gratisci, Dio, rinnovando con te ogni noto ampeanza. Abramo, nostro padre, non la vede, in piena obbedienza alla tua parola e ti faccò un'altare, punto a immolarmi per piacere a te i santo su di letto figlio. Anche Mosè, mi da noi sulla legge antica, costruì un'altare, che spesso con il santo dell'agnello, può annuncio profetico dell'altare della croce. Il fine di Cristo...